Una giornata davvero speciale quella vissuta domenica pomeriggio 16 settembre dalla comunità venariese ha fatto il suo ingresso ufficiale nella parrocchia della Natività di Maria Vergine Don Enrico Griffa a lungo segretario del Vescovo Cesare Nosiglia e vice parroco presso la chiesa Sant'Alfonso Maria del Liguore Torino il suo arrivo coinciso con la partenza è Don Martino Botero Gomez che aveva ricoperto lo stesso incarico pastorale negli ultimi due anni e che con lo stesso decreto vescovile è stato nominato parroco nella chiesa di San Giuseppe artigiano a settimo il vice parroco della chiesa di piazza annunziata Don Danilo Piras invece diventerà parroco di San Lorenzo i due parroci affermano dal consiglio pastorale lavoreranno assieme facendo comunità presso la casa parrocchiale di Santa Maria i due parroco della chiesa di San Lorenzo i due parroco della chiesa di San Lorenzo i due parroco della chiesa di San Lorenzo i due parroco della chiesa di San Lorenzo